Una squadra senza confini. Quest'anno arriveranno da diverse città d'Italia i giovani volontari che compongono lo staff di Passaggi Festival in programma a Fano dal 18 al 25 giugno. La direzione, infatti, ha ricevuto per la prima volta richieste di partecipazione da ogni parte del paese. Lo staff comprende già non solo fanesi, ma anche persone che provengono dalle vicine Pesore e Senigallia e che lavorano ormai da mesi alla prossima edizione. In totale saranno circa un centinaio i volontari impiegati nella gestione di eventi, ospiti e sedi, una squadra che sarebbe stata ancora più numerosa se avesse potuto contare anche sulla presenza degli studenti dell'Iceo Nolfi che fino al 2019 hanno partecipato ai progetti di alternanza scuola-lavoro ma che purtroppo sono stati bloccati a causa della pandemia. Quest'anno abbiamo avuto molte richieste, naturalmente non le abbiamo potute accontentare tutti, infatti sono pochi relativamente i volontari che arriveranno da altre parti d'Italia perché non riuscivamo ad accontentare tutti, soprattutto in questo periodo ancora con le restrizioni Covid. Però è stato molto bello vedere arrivare i mail e richieste da diverse regioni d'Italia, dall'Abruzzo, dal Piemonte, dall'Umbria, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e di ragazzi e ragazze che chiedevano di poter svolgere un periodo di volontariato all'interno del festival. E' una cosa che già in altri festival c'è, ad esempio a Mantua ma anche in altri festival e quindi per noi è stata una sorpresa assolutamente bella e piacevole vedere come Passaggi Festival, il nome di Passaggi Festival, sia diventato, non dico famoso, ma sicuramente circoli in diverse regioni italiane.